Questo è Berk, figlio mio. Ci hanno vissuto i tuoi nonni e tutti i tuoi antenati prima di loro. E c'è un luogo oltre i confini del mondo, dove vivono i draghi. Sono convinto che sia tuo destino un giorno. Trovare quel mondo nascosto. Lo sai che la mia gamba non è un giochino da masticare? E questa che puoi... Prendila! Come faccio a scendere adesso? Ehi, bello, aspettami! Non è l'unico. Lei è un'altra furia buia. È più una furia brillante, direi. Una furia chiara. Sì, il tuo è meglio, probabilmente. C'è un'armata che ha abbastanza gabbie per tutti i nostri draghi. È una nuova specie di nemico. Cerchiamo il mondo nascosto. Distruggerò tutto quello che ami. Sventato! No! Non vale niente senza il tuo drago. Non rimarrà più neanche un drago se Grimmel vince. Quindi tocca a noi ora fermarlo. Allora, qual è il tuo piano? Tutti in sella. Abbiamo una sola chance. Hai portato un neonato in battaglia. Non c'erano Babysitter! Il mondo nascosto esiste davvero. Questo sì che è un re. Hai ragione, bello. È ora. Ma guarda chi c'è! Non una parola.